e buongiorno ragazzi sia prestissimo ma io oggi incontrerò la psicologa grazie a fabiano mi ha dato la sua disponibilità proveremo ad avviare una buona iniziativa io ho preparato tutto pronti per registrare una serie di puntate ti faccio lo spoiler proveremo a registrare delle puntate riguardanti ovviamente come iniziare come proseguire ed eventuali tutti ed eventuali benefici di un percorso che sia ovviamente benessere fisico o psicologico quindi come approcciarsi sarà secondo me stupendo anche io imparerò delle cose impareremo insieme credo quindi non vedo l'ora di iniziare voglio solo dirti che se vuoi puoi seguire questi video li caricherò tutto sul mio canale youtube dove ti lascerò il link qui o in bio se stai guardando direttamente su instagram quindi rimani collegato e noi ci vediamo al prossimo ok ciao